Il Bici in Rosa è una manifestazione che invita tutte le donne, in particolar modo quelle donne che sono state malate, che hanno avuto una terapia oncologica, per avvicinarle al benessere e alla salute. In bici perché gli effetti collaterali delle terapie sono limitanti e questo è un modo per riprenderci la nostra vittoria, quindi nessuno perde e tutti vincono. Tra gli organizzatori della manifestazione c'è il gruppo Donne Positivo e Meglio, è un gruppo nato nel 2020 e ha realizzato un progetto che ha permesso di donare al reparto oncologico di Domodossola di Verbagna tre poltrone relax e un letto articolato. In seguito a questo progetto è nata la volontà di proseguire con un gruppo WhatsApp che ora si compone di 30 persone, che nasce per sostegno alle donne in terapia, per dare informazione e ultimamente stiamo collaborando con le principali associazioni oncologiche della zona per fornire dei servizi. FIAB è un'associazione di promozione sociale ambientalista che ha come scopo principale la diffusione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico. Abbiamo accettato con molto piacere l'invito di Letizia di Positivo e Meglio per collaborare in questa giornata a Bici in Rosa, in quanto riteniamo che lo sport, la bicicletta, possono aiutare tutti, soprattutto le persone che hanno bisogno, come benessere psicologico, fisico, per migliorare la qualità della vita. Grazie. 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 Grazie.